Quando mai è successo che un governo ti faccia un prestito al volo di 25 mila euro con la tempistica che c'è stata a maggio? Quando mai è successo che un governo a un ristoratore come me arrivano più di 20 mila euro senza neanche fare una domanda perché hanno calcolato l'oro, il fatturato eccetera eccetera? Quando mai un governo, si parla di un progetto, quando mai un governo ha lanciato un'operazione come il 110%, il bonus per aumentare l'efficienza energetica delle case e arriva anche ai disoccupati perché non è una detrazione fiscale ma è una bonus fiscale cedibile. Quindi stiamo avendo centinaia di migliaia di famiglie che avranno la possibilità di vivere in una casa antisismica, a non morire sotto le macerie se c'è un terremoto e che potranno avere una casa che farà risparmiare l'equivalente di uno stipendio all'anno in riscaldamento acqua e luce. Detto questo però io non capisco un'altra cosa di questo governo cioè con una legge col 110% ma che cosa aspettate andare a dirlo alla gente? Voi parlate con i giornali, parlate con le televisioni, qui bisogna andare dalle persone perché il rischio qual è? Avete fatto una legge meravigliosa? I soldi, parliamo di 100-200 mila euro, fondo perduto per famiglia andranno solo a chi è capace di fare le domande, chi c'è il cugino commercialista Devo fermarmi anche a quelli